Hanno avuto inizio le due sessioni organizzate nell'ambito del convegno nel cuore del Tricolle che ha visto la partecipazione di molti professionisti presenti all'ospedale Sant'Ottone Francipane di Ariano Irpino. L'incontro di questa mattina è stato rivolto soprattutto ai medici con i quali si è discusso dei traguardi raggiunti in campo cardiovascolare e del futuro che avranno alcune tecniche medico-scientifiche per i pazienti affetti da patologie cardiocircolatorie. Il primario del reparto dell'unità operativa complessa di cardiologia arianese, il dottor Gennaro Bellizzi, presentando il programma si è detto soddisfatto di come il suo reparto abbia raggiunto risultati eccellenti e di quanto ancora si dovrà realizzare. Abbiamo scelto degli argomenti di particolare importanza per quanto concerne la quotidianità e mi auguro che ci possa essere una risposta adeguata. i relatori sono di notevole livello e quindi io mi auguro che ci possa essere una risposta positiva considerando anche che questo convegno in un certo senso introduce il venticinquesimo anno dalla inaugurazione del nostro reparto e quindi è il primo di una serie di incontri che noi faremo durante tutto l'anno 2015 e che dovrebbero concludersi, anzi si concluderanno poi con il congresso prossimo del novembre dell'anno 21. Siamo giunti ormai alla nona edizione del convegno. Sì, la nona edizione abbiamo cominciato con molti dubbi, molte incertezze, però poi il riscontro che abbiamo avuto ci ha incoraggiato a fare ancora di più nel corso degli anni se possibile, abbiamo ospitato relatori di grosso spessore culturale, anche oggi avremo un personaggio di primissimo livello nel panorama cardiologico internazionale come il professore Sinagra, direttore della cardiologia universitaria di Trieste e quindi questo ci dà lo stimolo a proseguire su questa strada perché credo che sia fondamentale che i nostri medici, quelli ospedalieri ma anche quelli che lavorano sul territorio possano avere conoscenza delle ultime novità nel trattamento di alcune patologie di frequente riscontro. Il reparto di cardiologia qui a Dariano Irpino può essere definito come il fiore all'occhiello della provincia? Io ringrazio per questo giudizio positivo, noi facciamo il possibile, cerchiamo soprattutto di fare in modo che i cittadini di questo territorio abbiano un porto sicuro nel caso di quelle che ancora oggi rappresentano le malattie più frequenti, cioè quelle cardiovascolari e quindi noi nel corso di questi 25 anni abbiamo cercato di migliorarci, abbiamo cercato di aumentare le nostre competenze e di aumentare anche l'offerta che facciamo ai cittadini. Speriamo che le difficoltà contingenti, economiche che conosciamo tutti quanti non ci impediscano questo continuo progresso che noi stiamo ricercando. Io colgo anche l'occasione per fare il mio in bocca al lupo al nostro nuovo direttore generale, Ferrante che mi auguro possa affrontare con successo tutta una serie di problematiche che indubbiamente ci sono, chiaramente lui avrà il sostegno di tutto il popolo di questo ospedale perché naturalmente è il nostro interesse che egli riesca ad affrontare con determinazione e quindi a risolvere tutti i problemi che ci sono e sono abbastanza importanti.